ragazzi benvenuti sul canale sta per iniziare e questo è anche mio cugino forza Juve dai 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 vieni vincere non facciamo scherzi dai oh no mamma mia ma come si fa però guarda che buco ma cosa fa Bremer dai però Bremer no ma stiamo scherzando stiamo capitare un cazzo ma cosa fa Bremer ma Alexandra dov'è Guarda qua! Guarda qua! Guarda qua! Dai Bremer! Dai Bremer! Ma lì che è un tiro la testina! Ma dai Bremer! Come siamo al confetto non prendendo il tuo? ALEXANDRO! 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 DAZON! DAZON! Non fai cagate! Oh comunque è clamoroso come non abbiamo un'idea tattica! Ma è clamoroso! Ma dove cazzo sono i giocatori? Ma dove cazzo sono? Ma crozziamo che non c'è mai nessuno dentro l'aria! Ma come è possibile? Ma come è possibile? Guarda qua cosa si è mangiato! Guarda qua! Oh ragazzi! Applauso! Applauso a Perini! Mi ha salvato eh! C'era già un tipo come Gasperini la vita che... Ma quale Gasperini? Che cesso! Ma lascia lì dove è quel coglione! No! Direi da solo! Direi da solo! ALEXANDRO! OI DA SOLO! ALEXANDRO! OI DA SOLO! OI DA SOLO! OI DA SOLO! PARITA! PARITA! è da solo quadrado quadrado è da solo quadrado è da solo ma che cazzo fa che se gli prendi la gamba ti da rosso ma perché fai sti interventi perché allora che non abbiamo un gioco è vero però se l'allenatore ti dice che siete troppo larghi dovete stare più alto voi giocatori o non ci sentite e dovete andare da un ottorino o state più alti e stretti non allargati ve lo dice l'allenatore va bene che non ha un gioco è quello che vuoi ma te lo sta dicendo perché non lo fai? Avete sentito? Cosa ha detto? Ha sentito la telecronaca dopo 28 minuti non gli è arrivato un pallone per terra non si riesce a passare con tre passaggi dal centrocampo e farlo arrivare a Vlado si lancia solo lungo e questo però di che colpa? di che colpa? è vero che tu gli chiedi di stare più stretti però faglielo passare il pallone faglielo dare sto pallone frate sei tu l'allenatore fallo eccolo alexandro il fenomeno eccolo vai a fare il culo oh 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 ancora 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 l'allenatore il giro 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 però cazzo ma un passaggio per terra ma fatelo ma merda non giochiamo più a calcio perchè il primo tempo scandaloso speriamo eh ragazzi eccoci bravo Allegri che l'hai tolta quel cesso di alexandro bravo stai iniziando secondo tempo e Dani mi voglio carichi eh lo so che facciamo cadare cosa ti devo dire cosa ti devo dire cosa ti devo dire facciamo gagare facciamo gagare fai gagare attenda vai aspetta vai a Miretti vai a Miretti vai a Miretti bravo tira se vai a Miretti stimola ha rio rio ma rare tira merito di Miretti Miretti merito di Miretti rio zott chat cones data chiam Patrick rapito RABBIO! RABBIO! Guarda Miretti! Guarda Miretti! MA BRAVO Miretti! E' DATI UNA GRAN PANDA! Nooo! E' DATI UNA SPILIZZA! VOLO LA VICCIALTUO! Non ho parole! Non ho parole! Basta però! Siete scandalosi! Ma vergognatevi! 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 Giocate a calcio! Sempre per terra! Ma che schifo! Che schifo! E' una squadra scandalosa! Un bito per tornare quest'anno! Un serie bito per tornare! Bravi! 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 Con la candonia! Forte camione! Non ho parole! Siete scandalosi senza parole! Siete senza gioco! Senza aggressività! Ma che cazzo ci sono da fare in Serie A? Pezzi di merda! Pezzi di merda! Pezzi di merda! Ma che sei male con i giocatori! Non ha un gioco! 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 Si è scandalosi! Si è scandalosi! Se volete iscrivetevi al canale! E niente! Che schifo! sarò tutto caso! uliance! Exempere la sottolazione!